Va bene, va bene, mi hanno spento il microfono e parlavo. Dicevo la nostra Paola, dov'è? Ok Paola. Allora tu sei uno dei, come possiamo dire, delle persone con cui abbiamo fatto un po' di lavoro e che può dare magari alle altre persone un'idea di quali sono i risultati che si possono raggiungere. Io ti chiederei questo molto semplicemente. Se vuoi condividere con i tuoi compagni di cammino un piccolo risultato e un grande risultato che hai ottenuto lavorando su di te e con tutto quello che hai fatto, non spiegare tutti i percorsi. Ormai tutti hanno capito che ci sono alcuni percorsi, tre giorni di luce, l'intensivo, la missione di vita, eccetera, eccetera. Non ci interessa quella, a noi ci interessa sapere cosa tu hai ottenuto, quali sono i tuoi risultati e quello che può servire alle persone. Allora, risultati sono tantissimi. Devo dire che prima di tutto tutti questi risultati li ho ottenuti nel giro di sei, nove mesi e adesso dopo un anno di lavoro e di Divine Connection devo dire che mi sento nel pieno della mia vita straordinaria nel senso che io ho deciso anche di fare questo corso qua, di questo weekend perché stavo già viaggiando dentro la mia vita straordinaria e ho deciso di prendere una Ferrari. Stavo viaggiando su un'auto normale, su un'utilitaria e quindi io ho detto voglio andare più forte e quindi ho partecipato a questo corso per arrivare prima. e tra l'altro sono emozionata quindi mi fa molto piacere che mi abbiate chiesto questa cosa ma sappiate che sono anche emozionata. Allora Sei umana? Sì, sì, esatto. Allora devo dire che subito quando mi sono resa conto che la Divine Connection funzionava mi sono fatta l'elenco di tutte le cose che non andavano nella mia vita che erano tantissime, potrei dire tutte ho cominciato a lavorare, a espandere tutte queste cose che non funzionavano. La prima cosa che ho messo a posto è stato il mio rapporto con l'abbondanza che faceva schifo ma non nel senso che non avevo soldi e non avevo abbondanza di amore intorno a me ma il modo per ottenerlo era un modo complicato che mi chiedeva di sacrificare tutto quindi era un criceto dentro la sua ruota e da questa ruota io non riuscivo di uscire quindi riuscivo a sostenere economicamente la mia famiglia e tutto quello che riguardava la mia vita ma lavoravo 20 ore al giorno, sabato e domenica compresi l'amore che avevo intorno non era l'amore che sentivo di avere bisogno e che mi portava a pace e armonia insomma era tutto molto annodato, molto incastrato, molto incasinato e quindi ho cominciato a chiedere di poter guadagnare gli stessi soldi lavorando meno e ho lasciato delle attività che non mi piacevano io faccio l'architetto, lo faccio da tanto tempo ma faccio tante cose che riguardano il mondo dell'architettura un lavoro che non mi piaceva più era quello delle perizie delle case che facevo per le banche per aiutare le persone a ottenere i mutui e quando io avevo cominciato a fare questo lavoro dieci anni fa veniva retribuito benissimo piano piano hanno cominciato a pagare di meno e io mi ero ridotta a fare 50 mutui al mese e io avevo cominciato a contare le telefonate e ricevevo 70 telefonate al giorno delle persone che mi chiedevano ma il mio mutuo quando me lo danno? e poi mi chiamava la gente immobiliare e poi mi chiamava la banca e a me sembrava di non avere una vita ho cominciato a spegnere il cellulare a chiudere il contatto con tutti perché ero proprio andata in tilt quindi la prima cosa che ho fatto è stato chiedere all'universo di non farmi fare più quel lavoro che non mi piaceva e di farmi arrivare risorse attraverso altri modi e per poter non fare più lavoro che non mi piaceva perché io volevo riprendere in mano la mia vita e devo dire che ha funzionato dico anche questo che quando io scelgo un argomento mi prendo una risma di fogli a quattro comincio a fare l'elenco di tutte le cose che non funzionano quindi il mio rapporto con l'abbondanza era mancanza di tempo quindi scarsità arrivo da una famiglia di sgobboni quindi guadagnare tanto voleva dire lavorare tanto poi i ricchi sono brutti, cattivi, antipatici quindi non diventerò mai ricca perché non voglio diventare brutta, cattiva, antipatica insomma ne avevo a quintali quindi espandi, espandi, espandi molto velocemente sono riuscita a sbloccare tutto questo quindi io ormai è da un anno che non faccio più perizie per le banche sto facendo solo il lavoro che mi piace di architettura e sto guadagnando gli stessi soldi anzi di più sono arrivate risorse stranissime per cui mi sono anche scritta dei tuoi corsi senza avere i soldi e l'universo li ha fatti apparire proprio con una bacchetta magica quindi se mi chiedete come ho fatto non lo so neanche io perché sono arrivati e sbloccato tutto quello che riguardava la mia questione economica ho cominciato a prendere in mano la mia vita, le mie passioni le cose che volevo fare e avendo più tempo per me ho cominciato a scrivere dei libri ho cominciato a scrivere un libro nello specifico anche se ne avevo in programma degli altri e ho cominciato a capire che l'architetto che volevo fare io era un architetto che faceva del bene alle persone che era una cosa che sapevo già da tanto tempo però non l'avevo mai messo così a fuoco perché ad esempio la mia tesi di laurea nel 1998 era stata di cromoterapia perché io avevo deciso di aiutare le persone attraverso i colori delle loro case e devo dire che è andato bene cioè è una cosa che mi piaceva tanto ma non bastava non basta colorare le case delle persone per farle stare bene e quindi ho cominciato a studiare a fare un sacco di cose solo quando ho deciso di capire quali fossero veramente la mia missione di vita e l'ho fatto con il percorso diamante ho capito che cosa che tipo di architetto devo essere che cosa devo fare i libri che sono da scrivere perché poi la mia difficoltà nel capire quale fosse la mia missione di vita nasceva anche dal fatto che nella mia missione devo fare un sacco di cose quindi io adesso io l'ho capito che devo fare un sacco di cose ma prima dicevo ma cos'è che devo fare devo scrivere un libro ma cos'è che devo fare devo fare l'architetto delle case e poi io avevo cominciato con una disciplina che conoscete tutti che si chiama Feng Shui che si pronuncia Feng Shui però non riuscivo a ottenere dei risultati e mi ero anche fatta mettere a posto la mia casa dalla mia maestra di Feng Shui ma non era successo niente quindi sono andata avanti e ho scoperto che in realtà io dovevo studiare dell'altro dovevo studiare il vastu che è il papà del Feng Shui indiano insomma sono riuscita a capire che attraverso i miei progetti e riportare in armonia le case delle persone io riesco a aiutare le persone quindi nel giro di un anno io ho messo a posto le mie finanze ho cambiato casa perché la casa dove abitavo era una casa che non sosteneva più le mie energie e attraverso i miei progetti e le mie situazioni ho capito che dovevo cambiare casa quindi ho rivoluzionato la mia vita non poco non poco e ho capito qual è la mia missione di vita cioè nel giro di un anno io sono un'altra persona so chi sono so dove sto andando e so cosa voglio e so che nel giro di un anno io ci sto dentro al cento per cento perché adesso sono ancora nei miei lavori in corso e quindi quello che posso dire ancora è che io ho cominciato a occuparmi della mia vita trent'anni fa questo non è uno spot un promo per Patrizia però io ho cominciato a occuparmi di energie trent'anni fa tra l'altro qui c'è una ragazza che non la vedo in questa pagina Laura Mancuso l'ho conosciuta trent'anni eccoti cioè io e Laura abbiamo cominciato nel 1990 a occuparci di energie e io l'anno scorso dopo trent'anni ho capito chi sono dove devo andare e cosa devo fare e questo è successo con Patrizia tra l'altro vi dico ancora una cosa un segreto che io Patrizia l'ho conosciuta prima della Divine Connection perché lei abitava qua vicino abitava a Torino io avevo visto una sua intervista a una radio e l'avevo contattata e devo dire che ero andata a fare delle sedute di channeling perché allora ti occupavi solo di channel io ho fatto i conti era il 2015 confermami Patrizia se la Divine Connection io ho fatto il tempo sai però però quando è partita la Divine Connection più o meno nel 2017 2018 immagino sì 18 e quindi io andavo da lei a casa sua e lei si faceva delle grandissime risate no mi canalizzava le cose e io ero sconvolta perché lei rideva diceva dai ragazzi con gli esseri di luce no questa cosa non gliela posso dire giurisate tra l'altro non so se ti ricordi le caraffe di tisane che ci facevamo e già allora vi parlo del 2015 Patrizia mi aveva detto tu cambierai lavoro però le guide non mi volevano dire che cosa anche perché tu cambierai lavoro io avevo già preso due lauree stavo già facendo il secondo lavoro mi ero già smazzata una vita di un certo livello perché in tutte le scelte meravigliose che io ho scelto in questa vita ho anche scelto di perdere un marito in un incidente stradale vent'anni fa ed è stato molto pesante e quindi Laura l'ha anche conosciuto e quindi io sento che non so questo percorso mi ha salvato la vita e mi emoziono perché non pensavo di potercela fare cioè non pensavo di riuscire a ricominciare a vivere e grazie a Patrizia questo è successo e quindi auguro a tutti voi di trovare la vostra strada grazie grazie Paola grazie mille che hai sconvolto e me adesso devo devo parlare del bambino interiore grazie grazie di cuore perché le parole che hai detto penso che possano veramente aiutare non come spot ma è proprio quello che noi vogliamo farvi capire con queste persone che sono persone come voi che sono all'interno del percorso che tutti noi ce la possiamo fare non c'è nessuno che può non avere speranze veramente tutti noi ce la possiamo fare Paola veramente vi ha raccontato che ha avuto una vita veramente complicata lei è stata molto delicata ed è sicuramente una persona che non si è mai messa nel ruolo di vittima e è riuscita a farlo ovviamente bisogna impegnarsi bisogna darsi da fare bisogna fare quello che è necessario così come dice il nostro manifesto solo quello grazie di cuore Paola veramente adesso mi hai scombussolata tutta vediamo come riesco a parlare del bambino interiore grazie a te grazie a voi sei stata preziosa grazie di cuore grazie a voi wow in questo seminario mi state facendo commuovere tutti ok grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te Grazie a tutti.